Successo per l'edizione numero zero del premio Lector in Terra Letti, Quintino Festival dei Lettori alle falde della maiella nel cuore del bacino minerario promossa insieme all'officina del deputato Luciano D'Alfonso, dall'associazione EU, dalla Fondazione Europa Prossima e dall'associazione Pietrara Conviviale. L'evento si è tenuto ieri in vari punti di letto manoppello. 57 gli iscritti che sono stati chiamati a illustrare le opere prescelte da un pool di esperti. I partecipanti hanno dovuto illustrare il libro previsto per la propria categoria avendo a disposizione un massimo di 5 minuti nei quali raccontare e dare vita all'interpretazione del testo. I risultati delle prove sono stati comunicati al termine degli interventi e sono state premiate le tre illustrazioni che meglio sono riuscite a focalizzare il proprio pensiero. Ascoltiamo il professor Marco Presutti. C'è grande soddisfazione perché questa voleva essere una prova, infatti l'edizione numero zero del Quintino Festival Lecture Interlecti, cioè porre al centro il lettore, il lettore di libri che poi dopo aver letto, aver riflettuto, condivide in una comunità, qui siamo in un piccolo paese della provincia di Pescara, Letto Anoppello, ad animare delle piazzette in cui si dice quello che sia ottenuto dalla lettura.